Ok raga, eccoci qui, facciamo questo video, state zitti, fate in bravi, dal vostro Enrico Pasquale Pratico.T e la c'è un solo O, ho 29 anni, come qua, che c'è scritto, e sono uno youtuber, sono famoso, sono una leggenda, sono il dio di youtube, il re di youtube, comando io, e seguitemi, quando vedete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bene a tutti ragazzi, un like, ho messo questa maglia, che oggi portiamo di nuovo Omicol, andiamo a parlare con le persone su Omicol, ok, con questa maglia qua, prima o a ieri ho fatto con quella maglia bianca, con la scritta e la foto al revo, eh, il video ce l'ho pronto, che ho fatto a ieri e lo metto oggi, questo l'ho fatto oggi e lo metto domani, quello di Omicol, voglio dire, voi, seguitemi, e quando vedete, infatti bravi, perché io voglio saluti, venite su Omicol, e facciamo la parlata, il mostro, il telefono per voi, quello che parlo su Omicol, e dopo giro da me, ok, lo giro così, e lo giro così, ok, e niente, saluto Paolo, Silvia, dopo Claudio, Gloria, Silvia, Mary e Genevri, quell'altro mercoledì, luce del nord, alla colla X, è assunta, quando mi sono svegliato, mi sono fatto la barba, vedete, mi sono fatto la barba, questo video, quando lo vedete, l'ho fatto oggi e lo metto domani, e l'ho fatto a ieri e che oggi, e eccolo qua, ho fatto la barba, avete visto, vedete qua il rosso e la crema, mi ha fatto l'allergia, e vabbè, devo passare la crema, qua vicino il naso, qua sotto, e niente, andiamo, vado a fare un Omicol, ok, a tra poco, chi è questo Romuro, ah, la colla da frutta, culimo, l'ha comprati tanto a frutta, noi, a dopo, andiamo, aspettate, dai, dai, Oh, raga, l'ha comprati tanto a frutta, noi, culimo, ora, i venutori, questa ora, che a sveglia, sta tornando i fannitri, io il cellulare lo apro sempre all'una o in due, quando tano, quando cala, e ora, l'ho aperto, ce l'ho aperto, il cellulare, non pensate male, andiamo a fare Omicol, E faccio il tempo, facciamo anche il segreto, lo facciamo alla prossima, domani, facciamo con quella tuta verde, con le scarpe, che si indoma la badina, e con le maschere, ok, e altre novetà, andiamo a fare subito Omicol, che è tardi, con questa maglia qua, ecco, quella là, l'ho fatto a ieri il video, e lo devo mettere, che ce l'ho pronto, oggi sto facendo questo Omicol, con questa maglia qua, e lo metto domani, Prima metto quello che ho fatto con la maglia bianca, e oggi, lo faccio questo, con la maglia, gialla, e lo metto domani, vabbè, basta così, scusatemi, perdonatemi, e mi dissocio, Giozzina, Yoyo Menenzini, andiamo a parlare con le persone, ok, grazie a tutti, vi voglio bene, comando io, state zitti, andiamo, Quando mi sono svegliato, ho fatto la barba, avete visto? Quando carico quello video che ho fatto a ieri, c'ho la barba là, e oggi, quando mi sono svegliato, ho fatto la barba, e vedete questo video Il primo e il secondo Vabbè, io lo faccio con la barba, senza barba, una volta ho fatto quel pezzetto qua, con i baffi, l'avevo, le posso tenere, faccio le foto, un video, me le caccio, ora, oggi, ho fatto tutta la barba, e sono pulito, ho fatto anche la doccia, tutto il corpo che lavoravo, E loro sono sceme, non fanno niente, andiamo a fare un mico, che è tardi, l'ho fatto troppo lungo, andiamo, dai, basta così, dai, 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 ok, andiamo a fare La prima Andiamo, mostro così Guardo io prima, così non ci sono cose strane Guarda voi, guardo qua Ah, questo qua Vabbè, il primo Andato avanti fu io Mi dissocio Guardo io prima Do persone Guardo Ho fatto la barba oggi Ciao Ciao Ho salutato Si vedeva solo il letto, mi dissocio Guardo Guardo Ciao Ma scrivono Non parlano Ci sono quelle che parlano Ci sono Quelli con i schermi Strani Perché scrivono? Questo video lo faccio così Devo parlare qua a qualcuno Ciao Ciao L'ho salutato Vediamo E trovo Buongiorno 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 Voi se in questo pomeriggio ci sono poche persone su Omicol? Voi se la sera ci sono a 6 persone su Omicol? Che dite voi raga? Volete... questo lo faccio lo stesso Voi se la sera ci sono... non so quanto persone ci sono su Omicol Ci sono quelle che lavorano, ci sono quelle che sono su Omicol Voi se la sera ci sono a 6 Ciao Ciao Tutto a posto voi? Vedi? Dove sei? Sono qua, mi riposo Ma... dove sei? Sono in un paese sex Va bene, ok Ciao belli No, no, no In che posto, in che paese... Andiamo avanti Volevano dire che paese Io sono di Mozza San Juan e provincio di Reggio Calabria E ho 29 anni E vogliono vedere questo video Ciao Ciao Perché persone strane con il schermo nero Mucciati, vabbè Non può essere il pomeriggio ci sono pochi Ah sì, ma La prossima vediamo e lo faccio di nuovo il pomeriggio o la sera? Vabbè, è andato avanti Guardo io Ho questa maglia qua Vabbè Questo video lo pubblico lo stesso Andiamo e trovo le persone Quelle che ho parlato prima Che voleva dire Do abito Ciao Sì, vabbè Volevo salutarlo Ci sono su Micol e tutto il mondo I miei fan Ciao Ciao Sì, vabbè Non andate via Che vedete La telecamera Che sto registrando Oh, Dio Bello Ciao Ciao Come ti chiami? Enrico Ah Cogli anni hai? Ho 29 anni Io ne ho 9 Ah, ok Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Questo ragazzo è bravo Mi dissocio Raga Youtube Io mi dissocio Ciao Ciao Qua ci sono persone un poco strane Bravi Rispondono Voglio trovare i miei fan Qua su Micol Vediamo Ciao Ciao Tutto a posto voi Ciao 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 no mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi dissocio perché mette mi dissocio sono andato avanti veloce perché mette quel le persone su Omicol quando fanno Omicol mettono la era era la mia sonneria era era mi arrivavano i messaggi raga non è che Omicol ho messo pausa e mi stavano arrivando i messaggi su telegram andiamo di nuovo su Omicol vediamo e non ci sono altre persone che fanno la vabbè così lo chiudo ciao ciao sono qua nel riposo sono di reggio calabria quanti anni ho ventinove anni io mi dissocio l'ultima andiamo avanti basta così dai ciao raga io quando faccio Omicol iscrivo in privato a voi così venite su Omicol e facciamo un video e parliamo ora questo l'ho fatto così persone con schermo nero vabbè vanno avanti ci sono persone strane i miei fan io sono il loro idolo voglio dire volete un altro Omicol lo faccio bene questo lo pubblico lo stesso seguitemi quando vedete iscrivetevi al canale a tavola da campanella bello a tutti ragazzi un like del vostro Enrico Pasquala Praticogo tutti e l'accendo sull'O ho ventinove anni e sono di Mottasani pringi di reggio calabria e sono il re di youtube il dio di youtube comando io voi chiudete la bocca chiudete con la signera e parlate di meno che mi vogliono bene i miei fan i i miei amici la mia famiglia i miei parenti i miei cugini raga loro sono scemi non sanno niente da fare e volete venire con me andiamo da loro e facciamo un culo tanto a loro e così la smettono o li lasciamo ire così dopo si stufano io non voglio parlare più di loro sono il dio di youtube il re di youtube la leggenda sono famoso sono uno youtuber e capisco meglio di loro e ciao a tutti grazie mi dissocio scusatemi perdonatemi non dico le stesse cose john zina yoyo menenzini e vado a mettere quell'altro video che ho fatto a ieri con questa maglia e questo l'ho fatto oggi lo vedete domani e niente raga ho fatto la barba oggi dopo metto il titolo vediamo e metto la data scrivo la data quando l'ho fatto che l'ho fatta oggi e scrivo la data di ieri così vedete o sapete vabbè ciao raga e niente saluto antonio fabbio valentina maos 23 over 260 e antonio si l'ho salutato e tutti voi ciao belli e giuseppe muso l'ailanda dj dnb fabbio z la franz e ciao a tutti ciao belli e vi voglio bene con questa maglia e john zina yoyo menenzini e io sono grande le persone non capiscono e boh mi voglio bene lo stesso io voglio bene i miei fan ne voglio bene mi vogliono bene a me che sono il loro idolo vabbè l'ho fatto troppo lungo vado lo chiudo raga ciao belli grazie di tutto al prossimo video o mico segreto e novità la sotto sopra a vediamo vabbè ciao belli vado vado ciao ciao vado e mi riposo ciao belli john zina yoyo menenzini andiamo ciao